ciao a tutti io sono tommaso e io sono il papino siamo ritornati tre sfide di halloween allora io adesso sono completamente all'oscuro nuovamente perchè sta cosa spiegamo un attimo cosa hai fatto tommy ho creato tantissime sfide mentre qua c'è una zucca bomba bella peccato non si vede al buio ragazzi spiegano attimino la sfida come dai vi teneremo i commenti qua ci saranno tre sfide belle con dei premi abbiamo fatto già un video simile però questo tema alluminato che succede prima sfida kinder mini sempre molto buono poi un cupetto di formaggio parmigiano e poi dei crackers c'è ma tu che stai mischiando il cioccolato kinder con il parmigiano dei crackers e poi mi dobbiamo dire dato che vi teneremo i commenti volevamo dirvi iscriveteci magari nei commenti se vorreste vedere super mario bros wonder il nuovo gioco che uscita da poco che molti stanno facendo perché siamo un po decisi ancora se prenderlo va bene allora è tutto questo che devo fare adesso da dita di perché devo fare niente dai forza notte questo è il labirinto come fate il labirinto che nessuno lo sa no 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 entra nel labirinto con gli scheletri mostri e tante anzi vabbè sta zitto e capitiamo concentrare questa è il labirinto stai zitto un attimo sta cantando la canzone del labirinto la canzone del labirinto ma che labirinto mi ispira di qua in realtà poi ti è lasciata in creativa ma non è più una no ma qua che c'è no 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 aspetta ne sono già persi di qua di qua di qua di qua sicuramente tu sei uno che fa di qua poi di qua se ce l'ha fatta ha già vinto un kinder mini ma sono un genio dei labirinti kid mini aspetta che uno mangi tanto col termine il prossimo la prossima prova eccola qui però la zucca ho vietato a chiudere la volta perché altrimenti c'è perché c'è lo zio pino quasi la venta che se chiudi la porta è buonissimo quindi vabbè che devo farvi ritrovare la zucca qui dentro e quindi perché scusa qual è il problema di chiudere la porta non puoi chiudere altrimenti i zio pino ci lamenta e che devo fare qua e devi trovare la zucca qui dentro eh no perché qua questa è la crappie di integro chissà in questa casa dove si apre qua la posso scavare ma è lì sopra dove la meli la zucca e c'è un posto segreto non c'è un posto segreto il terreno potresti andare qua e non puoi stimolare si posso c'è un posto segreto e c'è una zucca e sta parete non mi convince questa è una doppia parete andiamo a farmi vedere qua non si può spaccare non vai non si dura per essere a casa cio pino ti ho fatto la casa cio pino eh papà scendi giulè buco va papà dai lo vatta con le chimannine se non so questa zucca dopo me la ricostruirà dopo me la ricostruirà dopo me la ricostruirà dico dove? qua non c'è il balcone allora questo video potrebbe essere molto corto magari perché non sapete quanto tempo ci ho messo ma non è un mago nel tetto dai papà mi dispiace il tempo è scaduto ah fermo tempo è scaduto dove? e adesso che facciamo? vedi c'è una nuova porta qua è un trucco vecchio un bel trucco che ho messo la zucca si l'hai trovato adesso puoi uscire a fare l'altro nuovo gioco non serviva la zucca ma scusa dormi no non l'ho capito eh non serviva grazie scusate come si esce da quel mondo è dalla porta ma fammi capire no è che si aventa la porta e è chiuso lì? si questo mozzo io la scasso ma è che ci lascio con la porta in mano ZUPINO la porta la sto portando oh no non prendo non c'entro più vabbè quindi devi fare l'ultimo gioco dov'è questo? no senti ma con la porta in mano però no ecco eh chissà cosa sarà bello ma io devi sparare devi sparare in ZUPINO e con che cosa? eh chissà con che cosa con questo? c'era una cassa dove? prima papà sai che sei fortunato apri questo vai provo dov'è sta cassa? ma poi perché ti stai mangiando tu il formaggio a quest'ora? io? e allora della merendina ti mangi il formaggio poi non mi fai la mullica e una scrivania te cosa mi staranno come amma Tommy? c'è cà? facciamo lo scherzo a pochino no dai smettila dai tu sto chiuso l'eggiusa apri ah no senti che dai il mio mio piatto e tu perché mi fai gli scherzi? dai forza buonissimo eh sì ma allora dove devo andare? dove il ZUPINO? e di là la ZUPINO dove stai andando? però che c'è da fare questa cassa Tommy? eh prende la cassa aprila non è questa la cassa un blocco di legno ma dove? devi trovare la cassa e poi c'è riscata è pure guardata scusa ma la cassa è qua questa è la cassa questa è vuota non è questa c'è un altro però dove? l'ha pure vista non l'ho vista nella zona degli zipini qua che c'è? no nella zona degli zipini? dai lì di fronte ma dov'è? ma non mangiare la bocca piena poi qua 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 oh questo? perché? perché mi hanno messo 12? eh prenditi l'arco prenditi l'arco metti arco un attimo e prendi fatti te lo sparo lo stesso come se non c'era il don va bene quindi? devi sparare gli zipini e sconfiggerli ok come me la prendo la freccia adesso scusa questa puntare hai già fatto? come si punta? c'è la seconda c'è la seconda c'è la seconda può ancora? dai 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 Tommy mi sa che loro sono troppo forti per un arco semplice nel tallone ok eh sì mi sa che era che mi guardi chi vuoi? no mi sa che era come Achille quello molto coltanto oh ma si spostano e certo non è semplice come l'arte che c'era il più spaventapasseri ciao ciao no fermo fermo zitto zitto no alla testa vai sto tornando giorno e ad halloween ci va una grande ferro no sì l'ho beccato una mi sbaglio Tommy 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 ok mi cagli la testa dai Pino ciò pieno che pizzeri ta vai ta vai ta e vai ok questo qua e allora Tommy questo qua è uno che non si muoveva va bene ehi 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 è un po' corto, mi sa che siamo a 9 minuti di registrazione vabbè alle persone piace il video corto lo prendi in testa in testa vabbè in cosa faccio una cosa speciale cosa? devo farmi vincere no ma che se si mettono qui sotto Tommy? via ma non vale si zitto l'ho beccato non vale buttarsi eh no ti dispiace ah il tempo è scaduto tra poco perché? ti posso lasciare un minuto allora perché? perché così? dai oh come lo vuoi? non vuoi vai Tommy alle 15.50 finisce il tempo sempre se le prende poi lui 15.50 per il nostro orario che ho beccato? domenica 29 no sono caduto nella fossa ok hai già perso no 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 crackers zio pino no zio pino devo difendere dal zio pino 50 abbiamo scaduto? no 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 luogo io adesso guarda che bravo scusami dai ti prendi lasciali in cinque ma tu vuoi fare con l'ascia perché non ti nasconde vino dove sei cazzo vino 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 dove sei questo l'ho colpito c'è l'ultimo questo è lo zio angelino adesso scappa zio angelino ok non c'è neanche quello bene come scappare zio angelino zio angelino è morto ok domi ma quindi questo l'ho perso si ne hai perso due su tre non mi fai le molliche della scala ti dai ti dà un crackers friday no vorrei un atto cioccolato kinder dai te lo do dopo per consolazione come si fa a saltare non puoi saltare l'aria e fa vola premia no no vedi sono finito qua vabbè ragazzi ce l'ho fatta ho vinto tutte le spalle dato che siamo a più o meno 12 minuti ancora vogliamo chiudere già qua pure voglio far venire qualcosa di di bello ma che è sto cos'è un cane nero e rosso che è quello che vuoi ma che è un cane del milan che è allora volevo fare un ragno vedi un bamboncino allora aspetta lo spiego adesso volevo fare un ragno però mi è uscito un po' male questo ragno non lo male ma vai in cane domi e vedi c'è un cane con quattro con otto zampe dai andiamo così c'è in cane con otto zampe per davvero vabbè adesso che facciamo vedere un attimino le sculture che ha fatto domi perché vedo davvero veramente bene guardate vabbè esploriamo un po' che vuole si insomma guardate ha fatto alla bocca perché c'è un tetterrotto che c'è questo coso qua che cos'è questo ma il tetterrotto lo ha spaccato no va bene guardiato che c'è che c'è no le foto speculare e ne sono mai aiutato perché c'è la tosse va bene ragazzi ho vinto anche questa altra sfida ci vediamo a breve fateci sapere cosa dobbiamo fare con mario wonder ci vediamo nel prossimo episodio ciao grazie Grazie a tutti.